Ciao ragazzi, nuovo video con il buon Fieric, Blitz Nautilus Bot, il Fieric mi introduce alle magie del Blitz Crank Full AP Fa male, fa parecchio male, buon video! Adesso faccio un video tipo, come si chiama con l'americano? Bunny Fufu che fa Blitz AP is broken e poi la copertina tutta colorata Allora ragazzi, abbiamo un ospite, questo ospite ci è già stato nel canale, un ospite che a molti di voi è simpatico E altri no, come è normale che si è Abbiamo fatto l'altra volta una botte per l'ambiente andando insieme a piantare 100 alberi nel mondo Lo rifaccio meglio, abbiamo piantato 100 alberi Andremo sullo Smurf a provare una botlane complessa, complicata E la botlane ci la dirà proprio il buon Fieric Amore Paolo Amore Fieric, come va? Ci ho messo anche la camicia che ho rubato Dove l'hai rubata? Sei lunga? No, no, aspetta A Torino? Gucci? Se qualcuno sa come togliere questo coso, mi contatti in privato, grazie, perché io non ci riesco Non posso dire dove l'ho rubata perché non voglio fare pubblicità Allora, Fieric, proponimi la bomba Allora, io ho proposto una botlane a Paolo Ma l'ho trovata troppo semplice Quindi l'abbiamo accantonata Quale, quale, quale? Blitzcrank Nautilus No, no, senti, senti Senti, ci ho ripensato Fammolo, famolo strano Vai Paolo, ne sei convinto di sta botlane? Prendiamo due kill e rifiutare in face Lo vedo bullo, eh Ecco qua Annaggia le piante Non sa che vinco No Ma l'ha laggato Ti giuro su Dio, bro Mi perdo i frame Ma non avete perso Guarda, secondo me è impossibile che validiamo Il Tunautilus però non è proprio clean Cosa era quel Ludenseco? Sai, Apic, LordAction Quelle cose lì Adesso faccio anche io la build Quella seria, però E cosa fate su Blitz MP, ragazzi? Qual è la vostra build? Che voi seguite Carenis Questi troll pazzi di merda SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Non è pure bravo tatina No no Picchie picchie No Abbiamo sbagliato la cena alle CC Ci abbiamo nel 2 Ok Ok questo è buono Mi sa che se faccio flash out GG Paolo cannone Ah è anche una ragazza Perfetto Sì Aram Stiamo facendo un contenuto con No sei fake Ok Io ho raggiunto challenger 930 LP Non si credere anche un po' però ok Dopo quello che mi è successo su ipano ormai Se grabbi se hai vinto Gravi la tu se puoi Adesso Ok Io scappo Tu vinci Tu vinci Prendo io L'altro autoattacco Onesto onesto Mi sa che c'è un buco là Mamma mia Dopo questa voglio dire se dicono ancora che sei fake Sto scagazzato io qua No vabbè muore guarda Se ti danno ancora del fake io Rivedo un attimo Fake L'alfiere è pronto quando vuoi Beh Se non tocchi vinciamo Se tocchi pure quello è buono Eh non c'è ancora Tanca 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 Non muovi se Rimaniamo Rimaniamo Questi li ammazzo X flash Non ce la fai Posso comunque vincere Posso comunque vincere Ai 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 Vain vieni mi grabba il triangolo Mamma mia Bella Spettacolare Non muoio Non muoio Non muoio Non muoio Non muoio Non muoio Questo è stato a triangolo vero Occhio occhio Sin da dietro Abbiamo tp Buono Basta Tu la pusciresti questa di ulti Quanto puscia Puscia veloce Sì sì Fu la pila Ma la distruggi La wave MacArthur Aspetta Oddio Ti ho give up Ma vinciamo Vinciamo Devo attaccarla Poi grabbo Ah niente Grappò Ok io ho i due item Che mi serviva Mi sa che adesso diventa diverso Davvero Ok Come ho fatto a killarla L'ho grabata io Oddio quanta gente Oddio quanta gente Vada via Oddio 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 Siamo tornati alle elementari Paolo 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 Vieni qua Vieni qua Adesso baby girl è qua Tanti saluti Ha pugnotti Pugnotti nei venti Io ho i pugni nelle mani Hai pugni nelle mani A me fanno troppo ridere i cazzottoni Quando ho besti di uccidere con i cazzottoni Perché non è come Stavo sbagliando Se la neve viene sotto casa vostra E chiamiamo la protezione civile E muori Ok Hai capito Fieric Possiamo far noi Possiamo far noi quasi quasi Abyssalmask ps Item geniale C'è sin da là Eccolo lì Stai fanno un po' di gente Arrivo Paolo No Ero troppo lontano Un assist Vorrei prenderlo Grazie Prego prego Non muore Questa Vain Vain Guarda che Tiri degli schiaffoni Però qua Vabbè un miss Niente di grave Ah questo qui 1v1 me lo macello Proprio Ok 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 Addirittura la ulti di Karpus Ma che è successo Ah Beh Beh Ci siamo fatti rispettare Che doge ho fatto la corsa Adesso faccio un video tipo Come si chiama con l'americano Bani Fufu Bani Fufu Che fa Blitz at peace Broken E poi la copertina tutta colorata Hai capito quale? Sì 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 Bani Fufu Allora innanzitutto Onoriamo Questo grande Uomo Che ha giocato un atto In maniera ineccepibile Perché ragazzi Voi guardate il Blitz Però anche io guardo L'emozione che mi ha dato questo compagno di Di corsia Quindi un bell'applauso per Abbiamo cresciuto Riccardo Fieric Grazie grazie Per la natura mi raccomando Per la natura 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 Grazie a tutti.